Signori buongiornissimo, sono sotto questo gazebo che è diciamo l'ultima struttura che ho montato perché? Perché in questo campo qua non c'è un punto d'ombra infatti questo inverno dovrò andare a risolvere questo problema installando delle piante sto già magari capendo un po' come fare, cioè non solo qua nell'orto, ma in tutto il campo e seconda cosa mi serve anche per fare le grigliate con gli amici, cioè specifichiamo con questo qua dopo un po' di tempo che non ti faccio vedere tutto l'orto ma ti faccio vedere soltanto i lavori che stiamo facendo è giunto il momento di andare a fare un tour del campo per vedere cosa ho impiantato, cosa sta nascendo e soprattutto un po' tutte le ultime novità che stanno sviluppando, gli orti quindi ora direi che partiamo dall'orto numero uno, andiamo avanti così e ti vado a raccontare il tutto perché ce ne sono veramente delle belle? Ho impiantato quasi tutto, più o meno ho impiantato la prima mandata ora manca tutta la seconda mandata ad esempio di pomodori, melanzane infatti come puoi vedere negli orti di là è ancora tutto libero però nell'orto numero uno e l'orto numero due è tutto occupato a parte alcune prode dove c'erano degli ortaggi ma non sono venuti fuori in maniera perfetta ok siamo arrivati qua nell'orto numero uno, l'orto numero uno è l'orto diciamo il migliore perché? perché c'è una varietà di ortaggi veramente incredibile è quello anche dove sto studiando un po' tutte le varie consociazioni sto studiando varie coltivazioni con il letame dove fanno crescere un sacco di infestanti e consociazioni come in questa proda qua questa qua è una consociazione di due ortaggi quindi di rape e di spinaci lo scopo è stato visto che ho utilizzato il letame andare a coprire il più possibile infatti tu puoi vedere dalle cipolle dove è stato messo il letame ci sono le cipolle ma ci sono anche un sacco di infestanti qua come puoi vedere abbiamo le rape che sono queste gli spinaci qua li ho raccolti per quello c'è il buco e gli infestanti non ci sono, ce ne sono alcune ma sono veramente poche vedi questa qua è un infestante, questa qua è sorghetta, maledetta questa qua dovrebbe essere la plautonia se non sbaglio quindi se lo sapete qui sotto nei commenti commentate pure dopodiché ho le barbabietole o rape rosse chiamate in più modi cipolle, altre cipolle, diciamo quelle cipolle ci sto facendo varie cose anche perché vorrei provare a fare le confetture, sentire come vengono fuori qui la lavanda è il mio bustico di lavanda dove devo pulire un po' di infestanti perché è nato di tutto e soprattutto non so se vedi ma ho installato una cosa molto importante il pluviometro che cos'è il pluviometro? il pluviometro non è altro che un misuratore per misurare quanta pioggia cade per terra quindi in questo caso qua mi va a dire i millimetri caduti e soprattutto i litri per metro quadro questo qua però diciamo non è una grande importanza perché se cadono 20 millimetri di pioggia sono 20 litri per metro quadro che se ci va a pensare è veramente tanta pioggia proda con tutte le stoppie del mais dove ho provato a fare alcune cose lasciandolo là per vedere cosa nascesse e cosa non nascesse ora andremo a lavorarlo perché è una prodina utilizzata e qui potrete vedere i primi pomodori che si stanno sviluppando guarda guarda che belli si stanno sviluppando alla grande ho installato i pali per fare tutta la struttura con i fili perché quest'anno i pomodori avranno solo fili non ci saranno canne perché le canne è veramente una spesa enorme e un consumo di materiali ancora più grande patate, insalate qua abbiamo un'altra consociazione cioè melanzane e fagioli qua adesso al centro visto che c'è un sacco di spazio libero pensavo di andare a seminare qualcos'altro magari una misticanza o qualcosa del genere prima che nascono un sacco di infestanti dopodiché c'è questa prova libera qua dove sto facendo la falsa semina perché ho aggiunto l'etame e dopo andrò a mettere i pomodori quindi preferisco lasciarla ferma per un po' far crescere gli infestanti visto che l'etame è pieno di semi di infestanti e dopo dargli una piccola fresatura oppure una strigliatura con lo strigliatore per andare a togliere il tutto questa qua è una mossa vincente per andare a eliminare il 50% di infestanti e anche più questa qua è una prova bellissima peccato che sto cominciando a raccogliere le insalate queste cose sono insalate gentili coste che sinceramente non è che sono proprio bellissime sono tanto piccole è vero che non hanno tanto tempo che sono in campo però l'anno scorso erano cresciute molto di più forse anche le temperature molto alte hanno inciso su questo nel mentre che mi sono mangiato la fragola direi di spostarci nell'orto numero 2 l'orto numero 2 è più vuoto possiamo dire così ci sono stati alcuni imprevisti ad esempio con la coltivazione di piselli dove non è nato quasi niente causa tra pianti troppo tardi infatti puoi vedere qua ci dovrebbe essere un bosco di piselli alto un metro invece ci sono 4 piante in croce infatti ho cercato di aspettare di lasciare qua il più possibile ora prendo con la fresa e tolgo tutto da uso come sovescio quindi come sostanza organica da portare all'interno del terreno ma tornando indietro e partendo dall'inizio seconda mandata di costo arcobaleno cipollotti costo arcobaleno che avevano un grandissimo problema di afidi ma le ho trattate con sapone molle olio di neem e zeolite ed è sparito il tutto e ora sono belle che mai l'unico problema che hanno è un insettino vediamo se ti trovo vedi? vedi il problema che hanno? c'è un insetto che va a fare tutti i fori sulla costa credo sia l'altica però io ho trattato contro l'altica per fare un esperimento ma il problema c'era comunque quindi se qualcuno sa cos'è questo problema qua me lo scriva qui sotto nei commenti che dopo lo ringrazio e dopo magari andiamo a fare anche dei trattamenti insieme per vedere se effettivamente funziona o non funziona e se effettivamente è quell'insetto o non è quell'insetto proseguendo vabbè le coste altri cipolle una consociazione di tre ortaggi quindi peperone fagiolo nano ovviamente e dopo ho messo anche le catalogne vedi? eccole qua le catalogne invece in questo punto qua dove c'è questa boscaglia questa qua è l'hotel per le cimici del cavolo hanno dato il nome giusto vedi? ora vediamo se riesci a vederla eccola qua che sono quelle rosse oppure quelle gialle quelle gialle sono ancora più pestifere per fortuna al momento non ci sono ne ancora le sto lasciando là in modo che ogni tot vado dentro con il pirodiserbo quindi quello con il fuoco e gli do una bruciata infatti se tu vedi ci sono alcune piante bruciate questo qua mi ha permesso di abbattere tutte le cimici visto che sono tutte là e vanno tutte là perché si vanno a mangiare i cavoli io passo ogni mettiamo due giorni ho già finito una bombola di gas per fare questo trattamento sì le bombole quelle piccole quelle giganti da 10-20-30 kg e diciamo che sta funzionando all'inizio c'erano circa una ventina di cimici per pianta ora ce ne sono due o tre quindi vuol dire che quello che sto facendo ha funzionato effettivamente guardate che belli che sono i zucchini autoprodotti questi qua li ho fatti io perché diciamo alcune piante qui stanno ho cercato di autoprodurmele sono più varietà sono gialli rossi blu diciamo ci sono un po' tutte le varietà perché quello che voglio fare è fare un miscuglio di varietà tutti insieme che magari si vanno anche a dibridare quindi viene fuori un qualcosa di diverso altre cipolle queste sono le cipolle sono il principe dell'orto se veramente ce ne sono veramente tante una proda due prode tre quattro e una cinque questi diciamo che mi sono sbizzarrito con le cipolle però al momento le cipolle le sto anche raccogliendo così piccoline vedi così piccoline e le sto utilizzando come cipollotto sorpassando le cipolle arriviamo a due prode importantissime una consociazione con i pomodori il basilico e la catalogna dopo andranno inserite altre piante con la seminatrice con la young sider la mia seminatrice giapponese bellissimo attrezzo vedrete dei video a breve su di lei e dopo questa proda qua quella proda là e altre prode sono seminate a girasole a giracol sole io non li chiamo girasoli ma li chiamo giracol sole perché questo? perché quest'anno il girasole sarà diciamo un po' l'elemento principale dell'orto che sarà anche diciamo quella pianta che darà il nome a qualcosa e quando ti dico altro ti lascio indovinare da sé quindi commenta qui sotto nei commenti un'altra prova di cipolle come stiamo dicendo prima i piselli che sono andati veramente male mi sono un attimo messo qua all'ombra perché ragazzi fa caldo fa veramente caldo sono le dieci e mezza quindi puoi capire che stanno arrivando le ore più calde della giornata abbiamo visto l'orto numero due l'orto numero uno che come puoi vedere sono belli coltivati ci sono veramente tantissimi ortaggi e diciamo quello che sto sperimentando quest'anno è proprio inserire più varietà insieme mettere tante varietà mettere tutto vicino perché mettendo tutto vicino sto riscontrando che i risultati sono migliori le infestanti crescono meno e ci sono tantissimi altri vantaggi nel coltivare tutto in modo biointensivo e il biointensivo ragazzi secondo me bisognerebbe studiarlo meglio perché è veramente una grande soluzione con questo qua ti stavo dicendo l'orto numero tre abbiamo i gira col sole su una proda e tre prode di patate sto appena riscontrando che c'è un ragno grande così che è attaccato al microfono della della videocamera bello quindi mi sa che adesso la videocamera rimane là per un po' anche perché non sono quelli piccoli sono proprio quelli grandi cioè siamo un ragno violino va bene se non mi vedrete più fare video è perché è stato morso da quel ragno nella tentazione di toglierlo ora provo a toglierlo se non mi vedete più è perché il ragno mi ha mangiato no dai a quanto pare è stato fortunato il ragno non mi ha mangiato gli ho preso ho fatto tac ed è volato via cioè era quello grande cioè se voi scrivete ragno violino è uguale identico orto numero tre ne abbiamo discusso ora passo all'orto numero quattro l'orto numero quattro è quello nuovo quello che ho realizzato quest'anno quello che sto realizzando quest'anno ora sto camminando tra le mie 120 piante di zucche e voi direte perché così tante perché non fate tante mi sono diciamo allargato un po' troppo con la semente e sono andato a fare ben tre plateau da 60 dove sono nate tutte ma la cosa ancora più bella è che io non ho messo un seme ma ne ho messi due per come si dice per alveolo però ora sto un attimo guardando per farle vedere ma quelli con due piante sono morte tutte ce ne è rimasta una vedi l'importante di mettere due semi per far nascere magari due piante è perché quella più forte prende sopravvento comunque sono partite tutte guarda che belle sono belle e al lato vedi che c'è tutta una striscia verde questi qua sono girasole c'è una striscia qua un'altra striscia qua e un'altra qua è vero sono coltivati vicinissimi solitamente il girasole si mette uno ogni 15-20 cm più o meno sono 7-8 piante per metro quadro io ne avrò messe tipo 30 per metro quadro no forse anche di più perché questo perché il mio scopo è fare proprio una sipe una barriera dove le zucche quando andranno a despandersi si vanno a bloccarla e non vanno in giro questo qua è stato diciamo un ragionamento perché coltivando nel biointensivo tutte le prode sono molto vicine le zucche si vanno ad espandere vedi qua c'è proprio un muro di girasoli con questo qua potrei dire che è tutto sì questo qua non è stato un grande video dove ti ho fatto vedere chissà cosa però quello che interessava a me era farti vedere un po' tutto l'orto come si sta sviluppando secondo me questi video qua sono importanti perché ti vado a raccontare un po' cosa sto facendo nell'orto ma anche alcune nozioni ad esempio la falsa semina che ti stavo spiegando prima è una curiosità oppure perché sto trapiantando i girasoli perché metterli così con la cioè ci sono varie nozioni che sono veramente molto importanti a parer mio qua io ti saluto ti ricordo di iscriverti attivare la campanellina seguimi sui social sulle varie cose commenta qui sotto quelle due o tre cose che ti ho chiesto in modo che dopo andiamo a vedere cosa fare insieme e vedi è questo qua che serve la community iscriversi al canale perché dopo ci aiutiamo a vicenda io aiuto voi voi aiutate me e andiamo a fare una cosa bellissima con questo qua ti saluto e ciao a tutti grazie a tutti grazie a tutti